Ciao Sat Nam! Eccoci al nostro quarto incontro sugli esercizi del risveglio del mattino. Vi ricordate? Apertura delle mani, dita delle mani, dita dei piedi. Rotazioni dei polsi e delle caviglie. Stiramento di tutto il corpo, stiramento del gatto. E adesso vado a sfregare vigorosamente le palme delle mani e le piante dei piedi. Perché anche qua noi abbiamo tutti i meridiani che arrivano e che partono, che passano di qua. Sono dei punti veramente molto sensibili, i nostri palme delle mani e le piante dei piedi. E noi le andiamo a sfregare vigorosamente per andare a riattivare l'energia all'interno di tutto il sistema. Siamo sempre sdraiati. Ho appena ultimato lo stiramento del gatto, quindi mi ritrovo distesa in questa posizione. Unisco le piante dei piedi, i palmi delle mani e faccio questo movimento in una maniera molto, molto, molto vigorosa. Perché devo risvegliare il sistema e devo fare in modo che l'energia inizi a circolare all'interno di tutto il corpo. E anche qui il tempo lo decidi tu, in base a come senti, come ti senti quella mattina, come hai dormito, come se hai bisogno veramente di essere un po' più risvegliato oppure se il tuo corpo è già abbastanza attivo. Dipende da te. Impara a essere sensibile e percettivo nei confronti del tuo corpo e di te stesso. Ti auguro buonissima giornata e ci vediamo nel prossimo video. Sat Nao. Grazie. 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 Grazie.